Il PD è l'elezione amministrativa nel senso stretto. I nomi che si fanno sono da Francesco Cascio a Roberto Lagalla. Ma la corsa si chiude tra questi due nomi oppure possono esserci anche altri che si andranno a proporre nel corso del tempo? Si è pensato a Cascio perché è l'uomo politico molto conosciuto che ha il primo ruolo istituzionale in Sicilia perché è il Presidente del Parlamento, quindi è una figura di altissimo rive e di prestigio. Ma è chiaro che noi abbiamo diverse personalità che possono scendere in campo in qualunque momento a secondo di quello che deciderà il Presidente Cascio. E' ancora forte l'ipotesi di un esterno tipo Lagalla? Lagalla è uno dei nuovi prestigiosi che noi stiamo mettendo in campo. Questo dimostra che non abbiamo un solo candidato ma abbiamo più candidati e questo è nella tradizione del popolo di libertà. Certamente poi i vertici d'intesa con la dirigenza cittadina e provinciale sceglieranno il miglior nome da mettere in campo. Il PDL è un partito ricco di notevolissime professionalità, dal professore Lagalla al Presidente Cascio, all'orevole Scoma che è anche lui nell'arena. Ci sono tantissimi esponenti che oggi come oggi possono ricoprire autorevolmente il ruolo di primo cittadino. È evidente che questo nascerà attraverso una discussione ampia che avremo all'interno del partito e che dovrà fare la sintesi tra la tesi e l'antitesi, cioè tra chi la vede in un modo e chi la vede nell'altro. Sicuramente il PDL non si tirerà indietro, il candidato al PDL sarà di primo piano. L'onorevole Ricò è di Fli e ieri a Roma Fli insieme agli altri alleati hanno deciso di appoggiare il candidato del PDL alle prossime elezioni amministrative. Ma è una scelta ormai naturale, nel senso non stupisce più, Futura Libertà non è più quel partito come aveva detto tempo fa sia l'onorevole Bocchino che il Presidente Fini ha ancorato al centrodestra, ormai è una forza a tutti gli effetti centrosinistra, culturalmente infatti appoggia la legge sulle coppie di fatto regionale e non stupisce appunto che sia pronta a votare quella Rita Borsellino, un candidato assolutamente rispettabile, ma io ricordo con gli amici ex AN che oggi stanno in Futura Libertà quante volte abbiamo detto che Rita Borsellino, la sua forza politica sta non tanto nelle sue qualità quanto a un cognome di un fratello, il grande magistrato Paolo Borsellino, che certamente non aveva quell'orientamento politico. E questo dà il senso della barbarie politica a cui assistiamo da parte di certi esponenti. Credo che il Presidente della Camera, soprattutto dopo le sue sortite a Ballaroma anche da prima, abbia oramai dismesso i panni di elemento di istituzione super partes, sia sceso nell'arena, va bene per carità, ma sia conseguente, si dimetta da Presidente della Camera perché ad oggi non ci rappresenta e credo che questo sia proprio, come dicevo prima, il sintomo di una politica che va proprio alla deriva. Noi del PDL dobbiamo ricondurre, visto che siamo gli attori principali, dobbiamo ricondurre la politica sui binari della correttezza. Ma guardi, la strategia del centrodestra è quella di cercare all'interno della sua classe dirigente, ma anche fuori, il miglior candidato possibile che possa rappresentare quell'area moderata che è maggioritaria a Palermo e in Italia. Io credo che il terzo polo, non credo che abbia commesso un errore, credo che abbia lanciato una palla avvelenata al PD perché non è così liscia la decisione di appoggiare un candidato che proviene dalla sinistra. Il terzo polo ha posto una serie di condizioni che riverberano sul governo regionale. Quindi credo che le contraddizioni all'interno di un ambiente che sarebbe certamente eterogeneo e conflittuale esploderebbero comunque.